Ecco la serratura della porta. Devo configurarla. Se quegli idioti dei tecnici credono che dorma mentre loro se ne vanno in giro a incasinare i sistemi dei droni, allora sottovalutano davvero il mio senso della missione. Resettiamo quelle ono serrature. Ecco, sierra ecco. Potrei usare il mio focus per guardarmi intorno. Non ho chiesto delle telecamere volanti. Mi serve sicurezza, non sorveglianza. E sicurezza significa potenza di fuoco. Che Dio mi sia testimone, non mi farò beccare a imbrattare le lenzuola quando un grosso atto terroristico colpirà queste strutture. Nessuno ha toccato questa macchina da quando è qui. Potrebbero esserci indizi che il mio focus è in grado di vedere. Sembra facile da rimuovere. Lo mostrerò allo sciamano a ultimo canto. Stai a lungo, non mi farò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.